TST F1 Racing, RAN 14 Italia Siamo con un mostro running che per l'occasione ci fa fare un giro all'interno della SF90 Se arriva la prima variante, poco prima dei 100m si stacca Prima marcia, si deve tagliare un pochino all'interno Non si deve prendere il sassicciotto né il cordolo in uscita Per poi lanciarsi in modo ottimo a curva grande Che ci porta alla variante della roggia Da ottava a terza marcia si frena In corrispondenza dei 100m si prende tutta la pista all'interno Si deve saltare sul sassicciotto qua, che la pista è più stretta Per arrivare all'elesmo, dopo i 50m, lesmo 1, quarta marcia Subito sul gas, si sfrutta il cordolo in uscita Ai 50m, lesmo 2, quarta marcia, anche qua, subito sul gas Perché ci porta in quello che è un altro rettilione importante D-RS aperto Arriviamo alla Scari, dove inizia l'ultimo settore Circa in corrispondenza dei 100m si frena Quinta marcia, si taglia un pochino all'interno Subito sul gas, attenzione qua Soprattutto in gara con gomma usata La trazione è molto critica Ed è importante uscire bene un altro rettilineo molto lungo Che ci porta a una curva fantastica La parabolica, ai 50m si frena Quinta marcia, si può usare anche la quarta Per far girare un po' meglio la macchina Subito sul gas, si sfrutta anche un po' di pista esterna Settima, ottava E questo è un giro in Italia A Monza E questo è un giro in Italia